Non ci credereste nemmeno se vi dicessi che guadagnare denaro è l'impresa più facile che un essere umano possa compiere. Tuttavia, per guadagnare denaro è necessario capire perché le persone spendono denaro. Perché le persone spendono denaro? Mi direte che è per via della domanda e dell'offerta, una teoria economica che cerca di far coincidere il denaro da una parte e i beni e i servizi dall'altra. Mi direte che la gente spende perché ha dei bisogni, come la fame, l'alloggio, il comfort, la comodità, i vestiti, le scarpe, l'intrattenimento, ecc. E probabilmente avete ragione. Tuttavia, quello che vi dirò vi sconvolgerà. Le persone spendono denaro per soddisfare un'emozione. Il denaro è energia. Sì, avete sentito bene. Il denaro è energia che le persone acquisiscono e spendono emotivamente. Anche se non spendete denaro a livello emotivo, arriveranno circostanze che vi costringeranno a spenderlo. Mi direte anche che le persone spendono denaro per il dolore o per il piacere, e probabilmente avete ragione. Quindi, possiamo dire con certezza che il denaro è energia applicata da un lato come capacità di acquisire un'emozione, ed ha l'altro energia che vi costringe a spendere denaro. Cosa succede quando si desidera tanto una cosa, ma non si hanno i soldi per comprarla? Questo è ciò che chiamo squilibrio energetico. Quando c'è uno squilibrio energetico, un lato dell'economia soffre, mentre l'altro prospera. Ciò che ne consegue è l'instabilità economica. L'equilibrio energetico è ciò che gli economisti chiamano equilibrio economico. È quando la quantità di denaro nell'economia corrisponde alla quantità di beni e servizi. L'equilibrio economico è impossibile a causa dell'avidità umana, perché per natura gli esseri umani sono guidati dall'avidità più che dall'equità. Pertanto, sono portati a creare una situazione di scarsità monetaria per mantenere il controllo. Forse si potrebbe sostenere che la quantità di denaro di cui si dispone è direttamente correlata alla quantità di duro lavoro svolto. Non è sempre così. Ci sono molte persone che lavorano molto duramente, ma che hanno pochi soldi in tasca. Perché? Perché c'è chi ha escogitato modi intelligenti per ingannare gli altri e guadagnare molto di più rispetto alla media delle persone. Un sacco di soldi. E se non sapete usare il cervello, siete sfortunati. So che vi hanno insegnato che il denaro è un mezzo di scambio per beni e servizi. Questo è in parte corretto. La mia definizione preferita di denaro è che il denaro può essere usato per scambiare emozioni umane. In che modo? Come ho già detto, il denaro è energia. Il denaro è semplicemente una moneta a corso legale autorizzata dalla banca centrale o dalla Reserve Bank della nazione ad acquistare beni e servizi. È nota come moneta fiat. Non ha alcun valore intrinseco. Infatti, il pezzo di carta che tenete in mano non è vera carta. È un tipo di tessuto fatto di cotone speciale proveniente dall'Himalaya. Il motivo per cui la gente si fida così tanto è che le persone hanno concordato collettivamente che ha un certo valore. Si basa semplicemente sulla fede delle persone. In realtà, non esiste un equivalente in oro nella banca centrale. Ecco perché non si dovrebbero scartare le criptovalute solo perché non sono state accolte dalle banche centrali. Le banche centrali hanno solo paura di perdere il controllo dell'intera valuta fiat che fluttua nell'economia. Ebbene, come funziona? Vedete, sia che soffriate la fame o che siate tossicodipendenti, in un modo o nell'altro otterrete ciò che volete, con o senza denaro. Dimenticatevi della domanda e dell'offerta. Di queste discuteremo se necessario. E se non volete davvero cibo o droga? Come può qualcuno vendervi qualcosa che non volete? C'è una differenza tra bisogno e desiderio. Le persone comprano ciò che vogliono, non ciò di cui hanno bisogno. Supponiamo che non vogliate un nuovo vestito, una nuova camicia o un orologio da polso. Il modo per convincere le persone a comprare cose che non vogliono è vendere un'emozione. L'emozione deve essere così coinvolgente che se l'acquirente non la prova si ammalerà, creando altre emozioni. Le persone acquistano attraverso una catena di emozioni. Anche se si soddisfa un'emozione, ne nasce un'altra. Avete mai sentito dire che il denaro non può comprare la felicità? E se vi dicessi che in realtà il denaro può comprare la felicità se comprate cose che vi danno felicità? Siete mai stati felici al verde? Avete mai sentito dire che il denaro non può comprare l'amore? E se vi dicessi che il denaro può davvero comprare l'amore se comprate le cose che vi avvicinano alla persona che amate? Avete presente la sensazione di essere rifiutati da una ragazza solo perché non avete soldi? Avete mai sentito dire che il denaro non può comprare la pace? E se vi dicessi che il denaro può davvero comprare la pace se comprate le cose che vi danno pace? Avete mai passato notti insonni solo perché non avevate i soldi per pagare l'affitto? Avevate pace? E quando avete trovato i soldi per pagare l'affitto? In realtà non compriamo le cose perché ne abbiamo bisogno. Le compriamo perché pensiamo che ci daranno le emozioni che vogliamo. Tradotto con www.dpelle.com barra translator, versione gratuita. Mi spiego. Supponiamo che io cerchi di vendervi un orologio d'oro per 1000 dollari, e anche se gli orologi d'oro possono costare fino a 50.000 dollari. Facciamo un'ipotesi. Probabilmente mi direte che non vi serve un orologio d'oro o che è molto costoso. Ora, supponiamo che vi dica che lo stesso orologio era indossato dall'ex presidente degli Stati Uniti, JF Kennedy, e che oggi potrebbe essere venduto all'asta per 100.000 dollari. Probabilmente la vostra mente comincerebbe a correre. Ora non state più pensando a un orologio d'oro. La vostra mente sta pensando all'acquisto di un investimento. In effetti, anche se non avete i soldi per comprare l'orologio, probabilmente state pensando di chiedere un prestito alla banca o addirittura di vendere la vostra casa per comprare l'orologio. In queste circostanze, chi non lo farebbe? A questo punto, state gettando al vento ogni cautela perché l'affare è troppo bello per essere vero e ora è così irresistibile che non vi interessa dove trovare i soldi. Che cosa ho appena fatto? Vi ho appena venduto un'emozione. Ho appena aggiunto una svolta alla transazione. Vi ho appena venduto una storia. E ora siete pronti a vendere vostra madre solo per comprare un misero orologio d'oro. Forse non è il caso della maggior parte delle persone, ma sono sicuro che qualcuno lo prenderebbe in considerazione. Questo è il segreto per guadagnare soldi che solo poche persone conoscono. Fate appello alle emozioni. Per fare appello alle emozioni, bisogna pensare in modo psicologico, non razionale. Le persone non comprano caratteristiche e vantaggi. Comprano le cose in modo emotivo e poi giustificano le loro azioni con la logica. Perché pensate che la gente continui a comprare il Mac invece del PC, anche se i PC sono di solito più economici? Perché pensate che la gente compri ancora un iPhone invece di un Android, anche se quest'ultimo è molto più economico? Perché pensate che alcune persone continuino a comprare un pasto in un ristorante costoso invece che in uno economico dall'altra parte della strada, anche se il cibo proviene dalla stessa azienda agricola? Perché credete che la gente compri ancora marchi costosi come Gucci invece di vestiti economici che costano una frazione del prezzo? Comprano emozioni Paura, rabbia, gioia, felicità, amore, odio e tristezza sono le principali emozioni umane. Altre emozioni umane degne di nota sono l'orgoglio, la gelosia, il disprezzo, la delusione, l'ego, l'interesse personale, l'avvidità, ecc. Anche se non sembrano del tutto ovvie, le emozioni sono sentimenti potenti che spingono gli esseri umani ad acquistare le cose. Sapevate che le persone possono comprare cose grazie alla rabbia? Questo è il segreto per guadagnare soldi che solo poche persone conoscono. Sembra un corso di vendita? Certo che sì, ma non nel senso tradizionale del termine. La vendita è un'arte antica le cui tattiche sono cambiate e, se non si impara il modo moderno di vendere, non si riuscirà mai a guadagnare una quantità significativa di denaro. Il problema è che i venditori tradizionali fanno schifo. Invece di fare appello alle vostre emozioni, vi spingono a vendere beni e servizi con forza. Non è una cosa negativa, ma, purtroppo, la maggior parte delle persone non compreranno, anche se hanno bisogno di ciò che state vendendo. La maggior parte delle persone ha un atteggiamento di repulsione nei confronti della vendita. Questo è comprensibile, dato che la maggior parte delle persone fa schifo a vendere. La maggior parte delle persone ha paura di affrontare un potenziale cliente, non ha fiducia in se stessa, ha paura di parlare con le persone e teme il rifiuto, ma supponiamo che vi dica che vendere è il modo più nobile e veloce per fare un sacco di soldi in fretta. Anzi, è il modo più semplice per guadagnare bene, se si sa come fare. Ora, supponiamo che vi dica che non dovete affrontare le persone faccia a faccia per vendere qualcosa. In effetti, non dovete parlare con nessuno faccia a faccia. Sapevate che ogni azienda al mondo guadagna quando qualcuno vende? Siete consapevoli che tutte le vendite e il marketing sono diventati online? Eppure, la maggior parte delle persone teme la vendita e odia i venditori. Alle persone non piace essere vendute. Volete saperne di più su questo segreto e non dovrete mai più preoccuparvi del denaro? Restate con me! Marketing online Il marketing online ha molte sfaccettature e può significare cose diverse per persone diverse. Il marketing online o marketing digitale è la componente del marketing che utilizza le tecnologie digitali come computer, smartphone e altri media e piattaforme digitali su internet per promuovere, e vendere, beni e servizi. Il marketing online non è un'industria, ma un'abilità ad alto reddito che comprende molte componenti come l'e-commerce, il dropshipping, il marketing di affiliazione e il copywriting. Ci sono molte abilità che si possono imparare per fare soldi online, ma nessuna si avvicina al marketing online e al copywriting in particolare. La vendita è un'abilità antica, ma il modo in cui viene fatta è cambiato per sempre, grazie a internet è diventata più sofisticata e il suo valore ha aumentato in modo significativo. Ciò che è cambiato, tuttavia, è il modo in cui si fa. Ora che abbiamo internet, la vendita tradizionale faccia a faccia è quasi obsoleta. In effetti, se non si sa nulla di marketing online, sarà difficile vendere qualcosa online. Seguitemi. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di marketing online. L'abilità specifica necessaria per indurre le persone ad agire e ad acquistare qualcosa online è nota come copywriting. Che cos'è il copywriting? Il copywriting è la persuasione in formato cartaceo. È la capacità di concludere una vendita attraverso le parole scritte. Lavorare come copywriter freelance consente di guadagnare da casa o da qualsiasi altra parte del mondo, purché si disponga di un computer e di una connessione a internet. Ancora meglio, non avrete bisogno di molto per iniziare. Il copywriting è un settore multimiliardario con una domanda costante di copywriter esperti. Il copywriting è una competenza ad alto reddito e va di pari passo con il marketing online. Probabilmente avrete sentito dire che il copywriting è un ottimo modo per fare soldi mentre si viaggia per il mondo, e probabilmente avete ragione. Poiché su internet ci sono così tante illazioni e disinformazioni sul copywriting, come possiamo imparare questa preziosa abilità?